Il nostro pianeta morirà e anche noi dobbiamo lasciarli liberi incredibile questi non sono mostri Godzilla 2 King of the Monsters dal 30 maggio al cinema Quello a cui assistiamo qui è il ritorno dei titani Ma quanti ce ne sono? 17 è forse di più È un bel casino, vero? Motra Rodan Ghidorah Oh mamma Si muovono come un branco Vanno a caccia Rispondono tutti direttamente a un capo Se fermiamo Ghidorah li fermiamo tutti Esiste un'altra creatura che può avere una chance contro di lui Mio Dio Godzilla Il nostro pianeta morirà E anche noi Se non lasciamo che Godzilla sia libero Oh sì, certo, invitiamolo a bere una birra No, questa volta ci uniamo alla lotta Corri Questo mondo è di Godzilla Noi ci viviamo soltanto E come X-Men The Dark Phoenix è il primo film del franchise a non avere nel titolo la parola X-Men in realtà Perché in originale è solo Dark Phoenix Simon Kinberg è al suo debutto come regista Prima di questa pellicola infatti ha lavorato come produttore e sceneggiatore Siete ansiosi di vedere questo film? Fatemi sapere nei commenti qui sotto E se non l'avete ancora fatto potete iscrivervi cliccando qui sotto di me Attivando la campanellina per le notifiche E noi ci vediamo prestissimo al prossimo video Ciao da Valeria